Si chiama Mickey Daniels, è sicuramente una bellissima donna o ragazza, che dir si voglia, che di certo non passa inosservata per il corpo sodo, eccitante, tonico che ha e la bellezza florida. La ragazza ha voluto raccontare la storia, aprirsi a 360 gradi, come fa d'altronde anche nella vita reale, ma in questa intervista apre a 360 gradi il suo percorso di vita, facendo sapere che è diventata, ha voluto diventare una escort, una troia, per non far mancare nulla all'amata figlia. Infatti grazie a questo lavoro la ragazza donna sostiene, sostenerebbe di guadagnare una marea di soldi e questa marea di soldi permette alla figlia di essere mantenuta bene, di vivere nell'aggiù e soprattutto non avere problemi per il cibo o per altre cose che vorrebbe avere la figlia in questione, va bene? Perché fa tutto questo? Perché è la figlia e per lei è tutto. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video del mio è qua, iscrivetevi, se vi va mi raccomando, commentate, datemi mi raccomando la vostra opinione, uscite anche la perla. Una buona sera da Leandro, un narratore italiano conveniente a questa bella giornata.